E cominciamo subito con la riete. Prontezza di riflessi e intuito vi saranno di grande aiuto per affrontare e risolvere questioni incerte e complesse, soprattutto sotto il profilo professionale. In serata concedetevi un po' di più al partner. Toro, oggi non possiamo nascondervi le ostilità delle stelle verso di voi, ma non sarà certo l'umore o un intoppo lavorativo a mandare a monte un buon affare e una bella serata con la persona amata. Gemelli, chi di voi è attratto dal mistero, dall'astrologia, dalla psicologia, in questo giorno potrà sicuramente trovare significative risposte alle proprie domande, grazie all'incontro con persone spiritualmente evolute. Cancro, splendide posizioni planetarie vi ispirano alle strategie migliori da utilizzare in campo professionale per aggirare qualunque problema. Non mancheranno riscontri anche sotto il profilo finanziario. Leone, mettete in preventivo qualche contrattempo e qualche momento di nervosismo. Forse non ve ne accorgete, ma state spingendo un po' troppo nel tentare di averla vinta in una certa questione. Meglio non provocare nessuno. Vergine, astri favorevoli promettono miglioramenti nel lavoro. Saprete destreggiarvi bene, con grandi abilità e modo da sfruttare al meglio ogni circostanza. Serata indimenticabile per i single. Bilancia, tutta la sfera professionale sarà protetta e favorita dalle stelle, che offriranno buone occasioni alla stragrande maggioranza di voi, anche sotto il profilo finanziario. Non lasciatevi sfuggire quindi nessuna opportunità. Scorpione, una serie di quadrature con il vostro segno renderanno stimolante ma anche difficile questa giornata, caratterizzata da momenti gioiosi alternati ad altri di stanchezza e di insoddisfazione. Sagittario, lascerà un po' a desiderare la vostra forma fisica, ma gli incontri in programma sono così stimolanti e piacevoli che nessuno lo noterà. Non mancheranno anche buone opportunità sotto il profilo professionale. Capricorno, i rapporti sociali funzioneranno alla perfezione e da ogni parte pieveranno successi. Bene amati dalle stelle, potrete godervi anche una serata piacevolissima per quanto riguarda l'amore. Anche se siete single, avrete buone opportunità questa sera. Acquario, dovrete rimboccarvi le maniche e darvi da fare il più possibile perché certe occasioni saranno irripetibili. In amore non dite parole di cui potreste pentirvi e non fate affermazioni precipitose. Pesci, le vostre quotazioni in fatto di grinta, ambizione e simpatia faranno un notevole balzo in avanti e questo, di riflesso, vi porterà vantaggi professionali e finanziari. Se siete già in coppia, vedrete anche miglioramenti nel vostro rapporto.